Il ministro degli esteri francese accompagnato da numerose personalità politiche e cittadine riceve al suo arrivo nella capitale sua eminenza il cardinal Pacelli legato di sua santità a Pio XI a presenziare il congresso eucaristico di Lisieux. Pio XI a presenziare il congresso eucaristico di Lisieux. Pio XI a presenziare il congresso eucaristico di Lisieux. Pio XI a presenziare il congresso eucaristico di Lisieux. Pio XI a presenziare il congresso eucaristico di Lisieux. Pio XI a presenziare il congresso eucaristico di Lisieux.